Che succede? Odi i serpenti! Quando è troppo, è troppo! Davvero non ti piacciono? Bene! Neanche a loro vai tanto a genio. Io sono stacco di questi fottuti serpenti su questo fottudissimo! Samuel L. Jackson, Snakes on a Plane. Di qua! Muovetevi! Martedì alle 21, sul 20. Martedì alle 21, sul 20.